spero che mi sentiate aspettiamo ancora un paio di minuti poi iniziamo ok direi che possiamo cominciare se qualcuno arriva per strada lo ammettiamo tranquillamente in riunioni allora intanto buonasera a tutti questa vuole essere una delle prime chiacchierate che facciamo diciamo dal punto di vista delle lezioni teoriche riprendendo un po da capo quello che è il discorso che invece poi per chi è iscritto al nostro corso White Eagle facciamo in maniera più dettagliata qui facciamo una chiacchieratina introduttiva che spero che quindi vedo che ci siete voi forse sarà un po diciamo spero non noiosa ma sicuramente l'avete già sentita e risentita però secondo me è comunque importante fissare bene i concetti di base perché sono diciamo i mattoni fondamentali su quale iniziare il percorso nel nel campo aeronautico il la prima la prima domanda alla quale rispondiamo quella che poi il tema di tutta la chiacchierata questa sera è avete visto nell'introduzione perché gli aerei volano e non è una domanda diciamo retorica perché è una cosa per la quale invece un pilota deve avere sempre la massima attenzione e deve sempre sapere con assoluta precisione il perché il suo aereo sta volando e il perché si comporta in una certa maniera vi faccio vedere subito quello che intendo riusciate a vedere quello che vi sto mostrando in questo momento allora questo è il classico disegnino che vi fanno vedere sempre quando vi chiedono quando vi spiegano perché un aereo vola ci sono tantissimi modi di discutere di questo disegnino che è la risposta cioè è tutto qui la la risposta alla domanda è tutta qua però si può rispondere in maniera diciamo molto pedante molto da professore di fisica e diventerebbe una cosa molto noiosa e invece cerchiamo di rispondere in maniera un po' più spero divertente dunque il motivo per quale gli aerei volano è tutto in queste quattro freccine queste quattro freccine sono il sono forze cioè sono spinte che agiscono sul nostro veicolo dico veicolo in questo caso perché questo stesso grafichino non è una cosa che diciamo vive solo nel mondo dell'aeronautica perché se noi abbiamo un'automobile il grafico è esattamente lo stesso vedete non cambia assolutamente nulla anche le normali macchine le normali automobili hanno un simpatico grafico di questo genere le due freccine più diciamo semplici da spiegare sono quella della trazione e quella della resistenza la trazione è quella che spinge il veicolo in avanti in questo caso dell'automobile l'attrito delle ruote nel caso di un aereo il motore quindi la spinta dell'elica la resistenza è la resistenza dell'aria si sommano anche tutti gli altri attriti ma diciamo in generale quello che importa è la resistenza dell'aria in questo caso queste due freccine orizzontali sono esattamente identiche sia nel caso degli aerei sia nel caso degli automobili perché tutte e due hanno un motore hanno un motore e avanzano nell'aria diciamo così cosa cambia tra un'automobile e un aereo le due freccine verticali perché nel caso di un'automobile e di un aereo abbiamo il peso che le spinge verso il basso e nel caso delle automobili questo peso è sempre controbilanciato esattamente da quello che è la reazione cioè la la spinta che l'asfalto il terreno danno sulle ruote e controbilanciano il peso della macchina e fanno sì che l'automobile non affondi nel terreno e non non se ne vada da nessun'altra parte la differenza sta proprio qui che nel caso degli delle automobili queste due frecce verticali sono sempre bilanciate perché le automobili viaggiano solo in piano mentre siccome un aereo si muove su e giù capite benissimo che invece queste due frecce non sono sempre bilanciate nel caso di un aereo e in effetti è proprio questo che lo fa volare l'aereo sale quando la freccia verso l'alto è più forte della freccia verso il basso tutto qui cioè viene tirato in alto nel caso di un aereo che stia volando in modo rettilineo e uniforme quindi in volo piano senza scendere né salire senza accelerare senza rallentare queste quattro frecce si annullano due a due la trazione della dell'elica quindi della spinta viene perfettamente controbilanciata dalla resistenza dell'aria mentre il peso viene perfettamente controbilanciato dalla portanza scusate faccio entrare le persone che sono arrivate ora eccoci e quindi nel caso di un volo diciamo rettilineo uniforme queste quattro frecce si annullano perfettamente e che è esattamente come vi dicevo quello che accade nelle nelle automobili a questo punto uno però si può domandare ok ma cos'è allora che le differenze cioè per quale motivo c'è questa freccia verso l'alto che può cambiare e che quindi fa in modo che l'aereo vada su e giù e la magia sta proprio lì capire perché questa freccia tira l'aereo in alto è la risposta alla nostra domanda cioè il perché l'aereo vola e per fare questo dobbiamo dovremmo introdurre tutta una serie di concetti fisici anche qua noiosissimi particolari che vengono studiati molto meglio dagli ingegneri aeronautici e dai fisici che progettano le ali ma sostanzialmente quello che ci interessa sapere è che le ali ricevono una spinta verso l'alto dovuta alla loro forma cioè il fatto di essere fatte in questa maniera provoca quella che viene chiamata differenza di pressione cioè quando l'aria investe un un ala cioè un oggetto fatto in questa maniera vedete viene deviata verso l'alto verso il basso ma siccome il profilo alare è differente e è curvato più in un certo modo verso l'alto che non verso il basso l'aria viene deviata e viene schiacciata in due maniere differenti questo fa sì praticamente che la velocità dell'aria sulla parte superiore dell'ala sia maggiore di quanto è sotto questo a sua volta fa in modo per tutta una serie di motivi fisici particolari una volta si credeva che fosse solo dovuto all'effetto Bernoulli poi in realtà si è visto che non è completamente così ci sono tutta una serie di motivi complicatissimi che vengono studiati anche con simulazioni a computer praticamente quello che accade è che le particelle di aria nella parte superiore dell'ala hanno una distanza tra di loro superiore quindi hanno una pressione minore quindi al di sotto dell'ala la pressione è maggiore che cosa succede se sotto c'è più pressione e sopra ce n'è di meno l'ala viene spinta in alto ed è quello che si chiama portanza ed è la famosa freccina rivolta verso l'alto sostanzialmente il trucco è tutto qui le ali vengono risucchiate verso l'alto dalla dalla differenza di pressione esattamente come accade quando voi prendete la vostra mano la mettete fuori da un finestrino di una macchina la incurvate un pochettino e vedete che tende a essere spinta in su quindi quello che succede è questo il l'ala viene risucchiata verso l'alto dal movimento dell'aria e quindi siccome è saldamente agganciata al resto dell'aereo tutto l'aereo si solleva appeso alle sue ali e queste freccine quindi sono fondamentali perché dipendono dal movimento dell'aria senza movimento dell'aria questa freccia azzurra verso l'alto non esiste esiste soltanto il peso dell'aereo viene giù con un sasso mentre se io muovo l'aria abbastanza in fretta genero questa portanza verso l'alto che andrà a un certo momento a superare il peso dell'aereo e quindi lo farà salire questo è il il concetto di base e dietro a questo ci sono milioni di considerazioni che si possono fare ma la più importante ovviamente è quello che importa è il movimento dell'aria un aereo si muove e vola solo esclusivamente perché viene investito da un flusso di aria sufficientemente forte da creare questa portanza questo è la base a noi quello che interessa è avere sempre aria che ci scorre addosso come la otteniamo è un altro discorso possiamo ottenerla nella maniera più semplice con un motore quindi con un'elica che ci spinge in avanti possiamo ottenerla in altre maniere per esempio avendo un'elica che invece ci gira sopra la testa e diciamo genera da sola questa portanza ruotando vorticosamente e quindi abbiamo un elicottero possiamo crearla semplicemente con una planata gli allianti stanno in aria perché non hanno una spinta di un motore ma sono abbastanza leggeri hanno delle ali abbastanza grandi da poter planare generare sufficiente portanza se vengono anche aiutati per esempio da una corrente ascensionale riescono anche a rimanere in aria diciamo senza dover planare e basta in generale però gli aerei a motore sono fatti in modo per cui hanno bisogno di una spinta in avanti per poter generare un flusso di aria sufficiente che li colpisce sulle ali per poter essere spinti in alto e quindi diciamo banalmente volare questo è il concetto di base quindi la cosa che il pilota deve sempre 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 fare è assicurarsi di avere aria a sufficienza il nemico numero uno del pilota è la mancanza di aria che scorre sulle ali e questo genera naturalmente la mancanza di questa portanza quindi genera lo stallo e quindi genera la caduta dell'aereo nel senso che l'aereo quando non ha sufficiente portanza il peso vince sulla forza di salita e l'aereo scende a questo punto poi naturalmente ci sono tutte le tecniche di come si evita questo come si recupera uno stallo come si può evitare tutto questo in tante maniere però questo accade sempre perché non c'è aria sufficienza può accadere in modi molto subdoli vedrete perché per esempio si può stallare anche planando si può stallare mentre ci sono spinte applicate e quindi non è sempre detto che io rallento e vado in stallo certo se rallento vado in stallo ma non è l'unica condizione in cui si può verificare lo stallo durante il corso chi fa il corso white eagle con noi vedrà che ci sono tipi di stallo che sono molto più subdoli e molto più particolari perché non sono così immediati da percepire e da contrastare uno degli stalli per esempio peggiori che si possano avere è quando non vanno in stallo tutte e due le ali ma va in stallo un'ala soltanto perché allora che cosa succede che quando va in stallo solo un'ala l'aereo non solo scende ma tende anche a scendere in vite e quindi si provoca praticamente un movimento di rotazione che è terribilmente insidioso e dal quale è difficile uscire se non si conoscono bene le manovre da fare e non ci sono diciamo non si interviene immediatamente per per evitarlo non sempre è possibile farlo infatti la vite è uno dei diciamo dei pericoli maggiori per quanto riguarda gli aerei di tutte le dimensioni e tutte le forme ci sono degli aeroplanini che sono stati progettati apposta per perché non possano entrare in vite ce ne sono un paio che lo possono fare ma per tutti gli altri in generale bisogna comunque stare molto attenti quindi chi fa il corso vedrà tutti i vari tipi di stallo questa è ancora una spiegazione un pochettino più tecnica cioè vedete che quello di cui noi parliamo è una forza aerodinamica totale cioè in realtà la portanza non è perfettamente verticale come visto prima nel grafico schematico ma è spinta leggermente all'indietro perché naturalmente si combina con la resistenza dell'aria quindi la resistenza dell'aria tende a spingermi indietro la portanza tende a spingermi in alto quindi l'aereo tende a essere diciamo spinto non verticalmente ma verso verso indietro e quindi questo è da tenere conto quando si diciamo quando si eseguono tutta una serie di manovre perché bisogna tenere conto anche del di com'è l'assetto dell'aereo stesso comunque in generale noi possiamo schematizzarlo in un modo come come avevo visto prima e vedere quindi capire che il queste quattro frecce messe una opposta all'altra giocano questo ruolo importantissimo nel definire com'è l'assetto e la diciamo come si comporta l'aereo in aria queste quattro frecce sono sempre in costante gioco una con l'altra naturalmente noi le vediamo in questo momento fisse congelate su un grafico ma se noi potessimo visualizzarle su un aereo in volo le vedremmo sempre danzare in modo molto frenetico perché i cambiamenti dipendono dall'aria che come ben sapete non è solida ma è un ribollire molto complesso se noi potessimo vedere l'aria la vedremmo vorticare peggio dei molinelli di un fiume quindi l'aereo quando nuota all'interno di questa di questo fluido le frecce che idealmente si trovano intorno al nostro aereo cambiano lunghezza e quindi intensità in continuazione la portanza è diciamo direttamente legata alla velocità dell'aria quindi se noi veniamo investiti da raffica di vento da coda per esempio la nostra portanza improvvisamente cala se noi ci mettiamo contro vento la nostra portanza aumenta motivo per cui come vi dicevo l'altro giorno si decolla sempre contro vento perché si aumenta in questo modo la portanza e quindi l'energia di cui l'aereo dispone ma allo stesso tempo la l'aria non ha sempre la stessa densità perché per tutta una serie di motivi anche lì perché ci sono correnti d'aria perché ci sono aria più umida perché ci sono aria più calda la l'aria cambia di densità mentre mi muovo quindi anche il diciamo la spinta del della mia elica cambia di conseguenza ci saranno momenti in cui la mia elica spinge di più e momenti in cui la mia elica spinge di meno e quindi la resistenza che dovrà vincere sarà maggiore o minore quindi il movimento dell'aereo come avete sentito chi ha provato con noi i nostri corsi i nostri voli non è affatto movimento uniforme sia perché l'aria non è uniforme sia perché queste forze cambiano in continuazione in base a come noi le regoliamo e quindi il motivo sostanziale del quale per il quale l'aereo vola è esattamente questo cioè risucchiamo in aria le ali appese all'aereo e ci lasciamo nuotare dentro questo è più o meno il il concetto di base se qualcuno vuole intervenire fare delle domande chiedere qualcosa io sono a vostra disposizione ok pare che non ci siano domande quindi nulla se se volete possiamo abbiamo ancora una decina di minuti direi possiamo rivedere un attimo il diciamo il discorso della strumentazione che stavamo guardando la settimana scorsa su al campo perché avevamo iniziato a parlare degli strumenti a capsula avevamo visto il nostro anemometro in maniera più dettagliata ma c'eravamo poi invece soffermati di meno sugli sugli altri due ecco volevo chiedervi a voi aquilotte se era chiaro il discorso di come si di come funziona invece il discorso dell'altimetro quindi del fatto che non è una vera e propria misurazione di altezza ma è una misurazione di pressione e quindi dipende dalla pressione dell'aria questo questo concetto è stato afferrato bene perfetto questo è importante perché non non sempre questo è immediato da capire perché uno dice l'altimetro misura la mia altezza rispetto al terreno no assolutamente misura una pressione dell'aria che poi viene interpretata dalla diciamo come una quota ma che in realtà è una una pressione barometrica e quindi va tarata l'altro strumento del quale parlavamo eccolo qua questo è il lo strumento che ci misura invece la la diciamo quanto noi cambiamo velocemente quota il variometro ci dice se stiamo salendo scendendo anche questo misura una pressione dell'aria però con la differenza che invece di misurare una pressione assoluta misura una pressione relativa cioè una differenza di pressione e praticamente cosa succede quando l'aereo sale la pressione nello strumento diminuisce questa piccola capsula ha un piccolo foro dal quale può uscire o entrare l'aria quando la pressione diminuisce il la lancetta si muove verso l'alto e mi indica in quanti praticamente quanti piedi al minuto io sto salendo oppure scendendo quando scendo il la pressione dell'aria aumenta e quindi la lancetta scende verso il basso e mi dice che l'aeroplano sta scendendo ecco una cosa importante è che anche la pressione naturalmente è influenzata dalla temperatura quindi nella capsula deve essere mantenuta una pressione una temperatura costante e altrimenti posso avere degli degli errori di lettura quindi i tre strumenti fondamentali a capsula quindi a misurazione dell'aria ne abbiamo visti anche l'altra volta sono altimetro anemometro quindi misuratore di velocità e variometro e questi sono quelli che sono direttamente legati all'aria che circonda l'aereo gli altri strumenti sono invece legati all'aereo stesso quindi diciamo alla parte elettrica e alla parte motoristica per così dire quindi giri del motore e tutti i parametri relativi al motore stesso e questi li vedremo nella prossima nella prossima chiacchierata se la vedremo se continueremo queste queste chiacchierate allora vedo che la riunione ha ancora un 4-5 minuti prima di interrompersi perché le riunioni di zoom durano una quarantina di minuti quindi ok cosa dirvi ancora niente io più o meno sarei sarei arrivato in fondo a questa chiacchierata veloce se ripeto se avete domande o delle considerazioni da fare sono a vostra disposizione Giorgio eccomi sì ciao Gianluca ciao ciao tanto volevamo ringraziarti figuratevi è un piacere perché sono io che ringrazio voi la questione della delle pressioni delle team e così via la stiamo affrontando in discussione anche in casa sì tanto ci mettiamo lì e stiamo facendo valutazioni su effettivamente è una è uno dei punti un po più un po ostico da digerire però ci stiamo lavorando sulla questione della sempre appunto delle pressioni della dell'azientro e così via una precisazione che ti volevo chiedere se noi partiamo da dalla nostra dalla nostra pista sì dal nostro campo volo sì dobbiamo andare su Genova sì partiamo con una giornata bella arriviamo a Genova con brutto tempo sì com'è che dobbiamo prevedere le variazioni in questo caso cioè com'è che ci dobbiamo allora allora qui il discorso dipende naturalmente da che cosa uno vuole fare una volta che arriva a Genova nel senso che immaginiamo di doverci atterrare in aeroporto a Genova noi normalmente con i nostri aeroplanini non ci avviciniamo agli aeroporti grandi quindi questo è un discorso diciamo abbastanza teorico ma potrebbe benissimo capitare nel senso basta chiedere le dovute autorizzazioni e nessuno ce lo impedisce allora che cosa succede immaginiamo che su Genova ci sia brutto tempo questo significa che la pressione è inferiore quindi questo significa che a parità di condizioni il nostro altimetro segnerebbe una quota più bassa quindi se io mi devo limitare a volare sopra Genova posso anche non preoccuparmi tra virgolette di questa cosa ma se io invece devo atterrarci oppure se devo passare in delle zone in cui per esempio ho delle limitazioni che sono dipendenti dalla quota barometrica non tutte lo sono alcune sono dipendenti dalla differenza di quota rispetto al terreno ma altre invece sì allora io devo sapere qual è la pressione in quel momento e la cosa più semplice da farla è chiederla all'aeroporto è possibile contattare l'aeroporto e dire qual è la pressione intorno all'aeroporto e ritarare l'altimetro in base a quella pressione ci sono anche gli aerei grandi, gli aerei di linea lo fanno in maniera quasi automatica nel senso che ogni aeroporto emette in continuazione una specie di bollettino meteo automatico che si chiama METAR che comprende anche la pressione barometrica in quel momento quindi diciamo questo fa sì che gli aerei che si avvicinano all'aeroporto sappiano come devono tarare i loro altimetri altrimenti lo si domanda e la richiesta della pressione è una delle cose classiche una delle più comuni che viene richiesta agli aeroporti durante i primi contatti durante il contatto radio questo è diciamo la cosa principale e lo si richiede diciamo normalmente lo si chiede nel momento in cui ci arrivi perché può essere molto variabile cioè se io pianifico un volo da Genova a Monaco ok io so qual è la pressione adesso a Monaco ma ora che ci arrivo può essere tranquillamente cambiata quindi la si richiede diciamo normalmente nel momento in cui io entro nell'area aeroportuale perfetto grazie grazie a voi va bene abbiamo ancora un minuto di riunione quindi comincio a salutare tutti quanti grazie per essere intervenuti per la vostra partecipazione e visto che vedo un buon pubblico diciamo così speriamo nei prossimi giorni di poter replicare con altri argomenti più avanzati diciamo così grazie ancora a tutti buona serata buoni voli ci vedremo presto su Alcampo e in bocca al lupo a tutti grazie Giorgio chiarissimo ciao ciao a tutti grazie ancora grazie Giorgio ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti